vinci questo scontro e torni in prima linea perdi e per te è finito tocca a te soldato andiamo a lot out, andiamo a lot out, andiamo a lot out, andiamo a lot out, si si è sceso si è buttato, ora che si è buttato, spariamo lì uno a terra, butto, l'altro a terra, finito oh, abbiamo 100 dietro, attenzione, non uscire da là, c'è 100 dietro, secondo me ci vengono a pusha da sotto a terra, non l'hai a terra, vedo se c'è l'autoress, dove l'ha, ah, là dietro quella roccia, meglio tirano in movimento, c'è l'autoress, tanto muore poi, almeno che non lo arresta nessuno, se c'è l'autoress lo ammazzo dopo eh, non c'è cazzo di colpi, no cazzo, si si, è a terra di nuovo, sono in due, sono in due, ma fatti in vecchino tenete lo spottino alla savia wow, vieni amico in volo ti voglio andare si prego wow 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 la la si fa con la grande movimento qui io sto tenendo qui si stiamo messi bene qua stiamo al centro che culo e vai ti mangiandato ti mangiandato da zero volpi quindi sei persone io intanto qui si uccidiamo la gente li prendiamo i colpi due stanno qui dentro eh in movimento si si ma ora dobbiamo vedere come cambia la safe tu non ce l'hai più il merda l'ho terrato non ce l'hai più il bombardamento eh no me l'ho buttato prima un altro a terra un altro gol un altro ti mangiandato un altro lì splaccato quello è mio quello è mio quello è mio non mi deve sfuggire un altro ti mangiandato attenzione che arrivano qua sopra come cazzo c'è salito questo orca troia eh si è ributtato forse e mazza eh non lo so a me pure come non lo so a me non lo so a me sai cosa fare? e alza we can't nooo se vuoi sapere questo è una testa eh ma c'eravamo pure la partiera non lo so, pure a me non lo so come hanno preso almeno io non lo so come hanno preso a me ma uuuu che partita ragazzi madonna quanti cazzo ne uccisi ma quanti team ho nientato cioè che partita a 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